Il mondo del calcio e dello sport piange la scomparsa di Emiliano Mondonico, indimenticato allenatore del calcio Como, in una stagione di Serie A, più di 30 anni fa. È scomparsa all'alba a Milano, se n'è andato a 71 anni. La partita con la malattia non è riuscita a vincerla. Mondonico era nato a rivolta d'Adda in provincia di Cremona il 9 marzo del 1947. Di partite però ne aveva vinte tante, soprattutto con Cremonese, Atalanta e Torino. Guidò anche Napoli, Cosenza, Fiorentina e Novara. Dall'allenatore arrivò il Como come emergente nella stagione 1986-1987, che venne chiusa con un eccellente nono posto in Serie A. Un anno indimenticabile per i tifosi lariani, con gli azzurri che nella prima parte del torneo furono costantemente a vertici della classifica, in quella che allora veniva chiamata zona UEFA. A Como era stato di recente, lo scorso 17 ottobre, per un'iniziativa legata al ricordo di Gigi Meroni, che in gioventù era stato il suo idolo. Era tornato spesso al Sinigaglia d'avversario, ma non aveva mai dimenticato i bei trascorsi con gli azzurri. Nel 2002, alla vigilia di Como Cosenza, ricordò la sua presenza sull'Ario. Sì, abbiamo fatto bene, abbiamo fatto il risultato e perciò è chiaro che quando fai il risultato va tutto bene. Aveva avuto sicuramente un rapporto buono con la tifoseria e perciò sì, è una delle piazze dove sicuramente sono ricordato e ricordo volentieri. Grazie. Grazie. Grazie.